In attesa del giuramento di Sergio Mattarella, previsto per giovedì pomeriggio, si apre la resa dei conti negli schieramenti. Mentre il presidente metabolizza in famiglia il peso del suo bis, i leader politici si leccano le ferite. Chi più, chi meno. Certamente meno Enrico Letta, che rivendica la scelta del PD di puntare su Mattarella sin dall'inizio delle trattative. Il segretario del PD contestualmente rilancia l'azione di governo e attacca l'attuale legge elettorale, confermando che questo sarà un tema da affrontare per permettere ai cittadini di scegliere eletti e soprattutto per eliminare la peggior legge elettorale che c'è mai stata, cioè il Rosatellum. Rimane contraria Forza Italia, che con Antonio Tagliani conferma la sua fedeltà al maggioritario. Ma il vero scontro si sviluppa nel centro-destra, che Giorgia Meloni definisce polverizzato. Matteo Salvini gioca in difesa e conferma però la spaccatura, sottolineando che serve una profonda riflessione. «Ragionerò sul futuro della collezione con chi è sinceramente interessato», ha aggiunto il leader della rega. «No, ci penso io», gli risponde a stretto giro di posta Giorgia Meloni, facendo capire che non vuole più Matteo Salvini come kingmaker questa volta della coalizione. «Il centro-destra è da rifondare e questo è quello a cui lavoro io da oggi», assicura la leader di Fratelli d'Italia. Per far capire qual è l'aria che tira interviene anche Antonio Tagliani, marcando il fossato sempre più ampio, che si è scavato tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Meloni ha un'opinione, noi un'altra, ma senza l'anima popolare, assicura Tagliani, il centro-destra non sarà un'alleanza di governo. Se Atene piange, Sparta non ride. Nel Movimento 5 Stelle la resa dei conti è personale e si combatte tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Dopo il chiarimento chiesto ieri dal ministro degli esteri, oggi è Conte a ribattere. Di Maio ha detto che vuole un chiarimento? L'ho detto prima io e un chiarimento ci sarà senz'altro. Di Maio avrà modo di chiarire il suo operato e la sua agenda. A sorpresa arriva la difesa dell'ex premier da parte di Alessandro Di Battista, che definisce un atteggiamento vigliacco il mettere sul banco degli imputati l'ultimo arrivato, cioè Giuseppe Conte. La sintesi di queste tensioni è che ora Mario Draghi potrà riprendere il lavoro a pieno ritmo. Difficilmente qualcuno avrà le energie per mettergli i bastoni tra le ruote, soprattutto con un supervisore della stabilità del calibro di Sergio Mattarella.